Certo, il Palermo era in dieci, ma sicuramente è furiosa la reazione dei russi. Ancora Chisucca, in avanti ancora Pernessi, da tu per tu con Benussi, non sbaglia. Palla sotto le gambe del portiere del Palermo e alla nono della ripresa. E già 3-1 per il CSKA, rischia di crollare la squadra di Deglio Rossi. Rivediamo il controllo e il tocco sotto le gambe.